eccola qua buongiorno oggi mi è arrivato questo bellissimo pacco che aspettavo adesso vediamo cosa c'è dentro vediamo aspetta che poggio un attimo la mia camera e cameretta che purtroppo aspetta se trovo una posizione migliore ce la mettiamo in modo che così vi gustate questa bellezza guarda che bella l'aspettavo tanto che la stavo aspettando ma proprio tanto e oggi finalmente però ve la voglio far venire a tutti a tutti aspetta e poi devo mettere l'altra parte perché se non sto troppo contro luce e non va bene allora che sarà che cosa sarà il contenuto di questa busta vediamo un po sto massacrando no aspetta guarda guarda bene guarda bene guarda bene mi hanno detto e me la sperivano ieri stamattina ma arrivata guarda un po che roba guarda un po aspetta devo far vedere la bellezza a parte me che non fa una bellezza con i miei fianchi larghi guarda un po guarda un po guarda un po guarda qui vada bene che sarà e guarda qua che chicca che mi ne so fatto fa perché mi so fatto fa perché mi so fatto fa perché mi andava ad avercela ti è beccate sti spiccetti guarda un po guarda un po guarda un po guarda che figata guarda che figata ma guarda ma guarda quanto è bello questo guarda quanto è bello questo attenzione attenzione guarda quanto è bello questo cioè stai a vedere mamma mia oh cioè dovete fare linea pure con i pantaloni sempre felpa così i pantaloni stile anni anni 90 quelle da ginnastica con tutta la bella scritta sulla coscietta lo sai che figata che viene mamma mia guarda ti è e poi pure eppure buona e non è che è scadente ma qualità fighissima invece mancano i pantaloni come andando a comprare i pantaloni e poi bello sto sto stemma qua davanti sto disegno che ha fatto il cugino giovane che ringrazio quest'opera d'alti che ha fatto così almeno ci vado in giro più di questo che poi la bella proprio vedi pure con un panzone come me gli sta bene devo il cappuccetto alla zio grazie grazie ma a te per parte questo ma per questo e grazie ai ragazzi che l'hanno fatta realizzata e me l'hanno mandata nei tempi che hanno detto ieri me l'hanno spedita e oggi mi arrivate io sto a roma non è che sto la da loro grazie eppure voi pensateci perché sono belle sono proprio belle ciao